Amici di Portacolo 1G0 vennero ritrovati dal bracciale di Magliottini e Tappelli insieme a Giorgio Battiston per parlare del calcio ai giovani. Intanto Giorgio ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a te. Grazie a te. Ho visto che ultimamente hai modo di seguire un po' le formazioni aretine impegnate nei campionati regionali. Anche i miei giovanissimi. Qual è la tua valutazione? Pensiamo che non è, non sono campionati che sono buoni dal bracciale di questi campionati che ci sono insieme allievi in generale. Ho potuto constatare, mi sembra, per quello che capisco, la differenza di qualche anno fa c'è meno qualità, c'è più agonismo, c'è più carica emotiva, questo va riscaldando un po' anche del gioco e della crescita dei ragazzi. Secondo te come si può soffrire questa mancanza di qualità? Secondo me si parte, si parte dal, diciamo dal basso, no? Dalla scuola calcio. 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 Esatto, esatto. Ma questo non vuol dire, facendo giocare tutti, dai a tutti la possibilità di crescere. Quello che conta è un lavoro che uno farà settimanalmente. Poi si deve sviluppare il sabato o la domenica, qualche partita di campionato. Secondo me questo viene meno, un po' da parte di tutti. Vuoi per interessi delle famiglie, vuoi per interessi di società, vuoi perché la gente non ci sta a perdere. Ci sono troppe motivazioni che vanno poi incontro al mio pensiero. Alla ragazza. Soprattutto io. Il ragazzo va lasciato stare, deve crescere, ci vuole un tecnico per gli dare insegnare. Certo. Esattamente quando parliamo di scuola calcio, a farlo divertire, a mantenere qualche caso. E poi io... Il rapporto con i propri carità, il rispetto. Certo. Qui viene a mancare dalla base, un po' tutto, l'educazione, il rispetto dei compagni, il rispetto dei nostri avversari. Sono capitate delle situazioni che sinceramente, a livello comportamentale, sono rimasto quasi male. Per vedere certi atteggiamenti, anche dai bambini, poi si dice sempre che il bambino da solo non riesce a tante cose. Ci deve essere qualcuno, qualche adulto, che lo incita, che lo sproni a fare. Queste sono idee che non collimano con le bambini. però si accettano, ma volentieri. Rai. 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 che avevano fatto fino a 5-6 anni fa, c'era già un'altra mentalità anche da parte di ragazzi. I ragazzi erano più motivati, avevano più stimoli nel seguire i metodi di allenamento. Ora mi sembra che sia scimmato un po' questo interesse da parte di tutti, a partire dalle parti dei piccoli, perché quando si vede che a fine seduta d'allenamento la prima cosa, il primo interesse che c'è da parte di questi ragazzi è andare a vedere se c'è un messaggino. Una volta con i giocatori che fermavate un'altra lezione, c'erano alcuni dettagli, alcuni fondamentali per crescere. Ho finito l'allenamento dell'allenatore che uno aveva, vedo io, in primis, mi fermavo sempre per 20 minuti e mezz'ora in più per minimare certi atteggiamenti, certi gesti, tecnici. Ora non c'è questa volontà da parte dei giorni. E persone come del calcio, sicuramente, non possono far bene e migliorare questo tempo? Io ce la metto sempre tutta. Credo di fare sempre quello che è nelle mie possibilità. Tanti dicono che non sono poche delle qualità che ho e tutto quello che ho metto a disposizione dei bambini. Adesso a L'Arezza ci sono questi due tornei molto importanti. Il primo è il Lorentini a Santa Pellina, l'altro poi a giugno L'Arezza Morcata all'Orgo Bosco. Ecco, due affrontamenti importanti per i ragazzi ma anche per la giugna. Sì, due, come dire, due concetti di tornei totalmente diversi. L'Orendini dedicato la memoria al dottore scomparso negli incidenti a L'Aize. Poi ho avuto il suo nome anche di allenare i suoi due figli, Stefano e Andrè, due ragazzi veramente ottimi. Poi questo mi ha dato merito e un applauso a Piero Bacci, come organizzatore di questo torneo, che racchiude, diciamo, la provincia. Le squadre che si sono messe meglio in evidenza durante l'annata. La L'Azion Cup è dedicata soprattutto ad una visibilità diversa, perché ci sono società di certo livello. Il club che fanno la Serie A, il Juventus, Torino, l'Atalanta, il Fiorentino, l'Azio, insomma, è tutto. Ecco, è un concetto totalmente diverso. Tutà diverse. Penso che siano due tornei da non sottovalutare. Secondo me merita seguirli con l'attenzione. Adesso a questo punto le tue aspettative del prossimo campionario, della prossima stagione. Siamo sempre presentori giovani, ma nel lancio sulla carriera, la prima squadra, ormai, come dire, rudimenti di... No, io direi vero, tre stagioni con le prime squadre che ho fatte la prima esperienza a soci, fatto prima da giocatore e allenatore a metà campionato, mi è stata data questa squadra che conoscevo benissimo. Abbiamo avuto la fortuna anche di vincere il campionato, lo stesso anno. Poi, solo come allenatore, ho fatto nell'89 promozione a Tegogito. L'anno successivo sono ritornato a soci in prima categoria. e poi ho fatto un anno a Terra Nova, con grandi presi imposti. Sì, sì. No, no, l'ho fatto quale ci sono questa giornata? Sì, perché poi ecco nel 1991 ne ho fatto anghiari per gli ultimi quattro mesi. e lì poi è successa una cosa personale, la malattia del mio papà che mi ha fatto pensare sempre. Non avevo una testa libera per affrontare i grandi. Mi venne fatto questa piacchierata da parte del povero Antonino Duranti che lui allenava all'epoca di Santa Firmina. e io piano piano sono entrato, mi sono, come dire, mi sono ambientato subito. Certo. Poi io come ragazzo ho sempre avuto un buon feeling. Per cui mi sono quasi, sono entrato a far parte di questa famiglia e sono rimasto per 22 anni. Poi il prossimo anno vediamo. Sono, sto valutando certe, sono tre o quattro opportunità, ci vediamo, quelle che riescono a... Collimare con i due regni. Esatto. Soprattutto che siano, che le idee mie e quelle di questa società siano, che vanno meno, un po' di palci, sì. Un po' di palci, sì. Più o meno. Vabbè, ce l'augo di un po' di ritrovare, di rivederti. Grazie. Grazie. Una panchina. Sonia, ringrazio a te per la tua disponibilità per questo sport. Come quanti ci hanno seguito fin qui, è il mio invito. Fortunati a seguire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.